Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Kamer. Pio Raina, Gritzko Mascioni, Sandro Massera, ma anche Emilio Quadrio e la moglie Teresina Tua. Una storia, una storia di persone nella casa, anzi per meglio dire nella bellissima Villa dei Libri. Il primo luglio 2022 la Biblioteca Raina di Sondrio compie 160 anni, ma in avvicinamento a questo compleanno tondo tondo i festeggiamenti stanno già per partire. Il primo appuntamento, aperto a tutti e va sottolineato finalmente in presenza, sarà addirittura lunedì prossimo, 14 marzo, con la conferenza di Gianluigi Garbellini Nasce una biblioteca a Sondrio, cultura e società, nella Valtellina del 1862. Le idee vengono realizzate dalle persone e quindi è bene ricordare anche questo gruppo di cittadini che ha veramente voluto realizzare questa idea di rendere la cultura accessibile. Occorre ricordare che alcune persone hanno contribuito a quello che noi siamo attraverso il loro lavoro intellettuale che ha avuto un peso anche a livello nazionale. Penso ad alcune figure come Pioraina di cui si parlerà, ma anche lo stesso Emilio Quadrio che è stato un editore, un giornalista, un politico di una certa rilevanza. Altra data da segnare è quella di sabato 21 maggio, da mattino a sera porte aperte in biblioteca per una giornata con Emilio Quadrio e Teresina Tua, ovvero coloro che donarono la villa che oggi ospita la Biblioteca dei Sondriesi. La possibilità di una visita guidata gratuita alla villa, una conferenza sull'attività di Emilio Quadrio e un concerto appunto in ricordo di Teresina Tua. Abbiamo cercato di celebrare questa nostra biblioteca in tutti i modi, quindi da un punto di vista storico, da un punto di vista artistico, da un punto di vista musicale. Riteniamo che sia importante celebrare cittadini che hanno voluto creare uno spazio per la cultura, quindi che si sono messi a disposizione affinché nella nostra città la cultura fosse più accessibile. Prevista inoltre una giornata il 19 marzo, sabato, che la biblioteca dedicherà ai più piccoli e ai giovani. Per i bambini dai 5 agli 8 anni, previste letture con laboratori artistico-creativi con Raffaella Castagna, illustratrice e autrice dello splendido Gatti d'Artista. Per i ragazzi, invece, in occasione del Dante di 2022, una conferenza online dal titolo Immagini dell'Ira nell'Inferno dantesco del professor Joël Vosce de la Croix. Insomma, davvero una marcia trionfale di avvicinamento al compleanno numero 160 della biblioteca. Inviterei tutti i cittadini, soprattutto quelli che non sono mai entrati in biblioteca, a approfittare di queste occasioni, non solo delle conferenze, ma anche delle attività collaterali che proporremo per mettere i piedi, la testa, il naso all'interno della biblioteca, anche solo per fare un giro, anche solo per apprezzare la bellezza della villa e anche magari farsi coinvolgere da qualche libro o anche da qualche documento multimediale.